Sì, non ci salgono, voi gridano. Anche questa non è male, guarda, questo è veramente la giostravolante, i borsacci su, è 50 metri, ma secondo voi vi sembra normale sta roba qui? Impressionante, sono 40 metri, 50 metri, che ne sono? Ehi, il nastrino, il nastrino da prendere, lì non lo metto, guarda. Guarda che non girebbe in giostra. Da lì vedi tutta essere, non c'è. Guarda, sale, 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 sale. Impressionante, io non ci salirei manco se vi pagassero a me. Se prendi il volo da lì, ti saluto, Maria Amina. Guarda, la planta di hotel è alta. Sono giù 20 metri, 20-25 metri. Guarda, guarda che differente, guarda. Allora, molti piani sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piani. Giù la terrazza. Sette piani da transit hotel, facciamo paragone, che buono, guarda qua. Allora, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Allora, questi sono sceglie. Hai strampatura, per esempio. Ti deve fare sceglie. E' roba da grandi, no? Tutto cattaglione in manco. oh 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 Siamo sotto Siamo sotto Siamo sotto Siamo sotto Siamo sotto Siamo sotto